Parto dalle giovanili del Padova, quando ero un ragazzino, nel 2014 quando il Padova falliva, vado a Cittadella. Fai un anno lì per poi andare tre anni a Bologna, dove ho fatto fino alla primavera, per poi iniziare un percorso tra i grandi come il Renate il primo anno, il Lega Pro, e l'anno dopo successivamente l'Arzignano. Dopo Arzignano ho deciso di fare una scelta come Trento, in Serie D, per vincere un campionato, che è quello che è successo, e ora sono qui ad Arezzo. Ne ho parlato molto col mio procuratore, so che qui ci sono persone che lavorano bene, professionisti, penso che l'Arezzo meriti altri tipi di palcoscenici. Il direttore mi ha dato fiducia, la fiducia che mi ha trasmesso mi ha convinto a venire qui e vincere il campionato. Sono prevalentemente un esterno destro, mancino, penso che la mia più grande caratteristica sia la forza e la velocità. Ho scelto la 10 quest'anno, quando ho saputo che c'era Nello Cuttolo qui, scherzando col direttore, che poi è la verità, gli ho detto che quando lui era a Padua, io ero ragazzino, io facevo raccatapalle a lui, e allora ho chiesto il permesso a lui, mi ha dato l'ok e ho scelto questo numero qui.